Una lettera aperta ai due candidati a sindaco a prendere carte penna è stata l'associazione Arezzo Autismo per chiedere ad entrambi di impegnarsi affinché vengano prese in considerazione strategie utili al miglioramento delle condizioni di vita delle fasce più fragili della popolazione. Eravamo molto curiosi ed ansiosi, si legge, di conoscere se ed in che modo il tema dei diritti delle persone più fragili sarebbe entrato nel dibattito tra candidati. Ebbene non vi nascondiamo che siamo molto delusi, poche parole, idee vaghe e scarso interesse verso i diritti delle tante famiglie che convivono con una persona con disabilità. Al sindaco che verrà Arezzo Autismo domanda o meglio raccomanda di portare al centro dell'azione politica la disabilità prendendosi cura delle persone autistiche con azioni che partono dai bisogni dei più fragili. In altre parole si chiede di progettare interventi avendo ben chiaro che i destinatari potrebbero avere difficoltà. Si chiede poi un confronto aperto e costante con le associazioni dei familiari e non trattarle semplicemente come un elemento di disturbo da accontentare. Prendo un impegno, nessuno sarà dimenticato. Questa la risposta del candidato del centro-sinistra, Luciano Ralli. Non faccio l'elenco di cosa potrà fare un comune guidato da me. Dico soltanto che entro la fine di ottobre convocherò Arezzo Autismo e le altre associazioni del sociale per ascoltare e decidere assieme. Infine concretizzerò un impegno del mio programma e cioè attivare un tavolo istituzionale con ASR e associazioni per sperimentare percorsi inclusivi e innovativi all'interno della nostra comunità. Non si è fatta attendere nemmeno la risposta dell'altro candidato, Alessandro Ghinelli. In questi cinque anni, scrive, sono stati investiti circa 10 milioni di euro che sono destinati ad essere ulteriormente incrementati. Per il futuro tre saranno i punti forti, la carta unica di cittadinanza che erogherà servizi alle famiglie, l'incremento del fondo per abbattere le barriere architettoniche e il potenziamento dei progetti legati al Tiaccompagno che vedrà sempre più risorse dedicate alla presenza di educatori a domicilio e di doposcuola dedicati a bambini con difficoltà.